All'alzambio inclusivo del Tour Elementi è stata un'esperienza divertentissima che è sempre importante divertirsi. I pizzerioli hanno dovuto riconoscere degli impasti senza vedere. Magari tutti fossero molto convinti di quello che stavano facendo, in realtà pochissimi hanno indovinato almeno uno dei tre impasti. Invece quello sulle lievitazioni, sulla forza della farina è stato divertente. I pizzerioli comunque erano emozionatissimi, anche noi dell'algiuliere, perché trovarsi di fronte ad una prova così è una bella emozione, è bella bella. E' molto interessante per trovare degli spunti di riflessione, oltre che sulle farine, sui condimenti, anche sulle varie modalità di servizio e da cosa trasmettere realmente al cliente. Ha vinto la pizza, secondo me, che ha espresso, oltre che gli ingredienti, un'emozione. Il nome della mia pizza è la pizza Ariel, dedicata a mia figlia che nascerà tra due mesi. Ho usato un impasto moreschino, molti cereali, proprio perché volevo evitare di usare il pomodoro. Sono anche abbastanza contento, visto che sono arrivato prima.